Carmen Electra si è conquistata un posto in Baywatch grazie alle sue curve decisamente esplosive Poi alcune parti, minori in filmetti che in Italia si chiamerebbero di serie B Infine, l'oblio. Ma che fine ha fatto? La 46enne ex bagnina di Baywatch è tornata su Islchall con una foto mozzafiato Dopo Lady Gaga anche Carmen Electra ha posato completamente nuda per l'obiettivo di Elira Salinez, il fotografo preferito di Kanye West e Kim Kardashian La bellissima ex bagnina di Baywatch sfoggia le sue curve perfette e conturbanti da vera sex bomb L'anno scorso, presentando la sua collezione di lingerie aveva incoraggiato i suoi fan ad amare il proprio corpo, penso che ogni donna abbia parti del proprio corpo di cui si sente orgogliosa e altre con le quali non si sente a proprio agio Bisogna conoscersi e capire come mostrarsi agli altri Carmen Electra la scelta sembra averla fatta e senza veli si merita una promozione a pieni voti L'ex bagnina di Baywatch ha dimostrato di non aver nulla da invidiare alle colleghe giovanissime Di tempo ne è passato quando ha debuttato nel mondo dello spettacolo, ha ricorso a un piccolo intervento chirurgico per avere un seno tanto tonico e abbondante, ma non ha perso la bellezza che l'ha sempre contraddistinta Carmen Electra è lo pseudonimo di Tara Lee Patrick è nata il 20 aprile 1972, a Cincinnati, città nel sud-ovest dell'Oaio Figlia d'arte, la madre di Carmen era una cantante, mentre il padre un chitarrista Grazie a tutti